Oggi, con l'assegnazione delle ore d'argento, si raggiunge uno dei vertici più ossigenanti del festival. Sì, perché questo premio, che ha una storia importante, racconta il riconoscimento al futuro, alla cura, verso un talento che ha la capacità di disegnare, per grammatica e contenuti, i perimetri di quello che potrà essere il nostro domani. Esplorando i confini porosi tra reale e virtuale, indagando sugli effetti dell'amore, del genere, della femminilità, del desiderio, del suo conseguente annichilimento e dei sotterranei brutali giochi di potere, Samira Edagoz percorre un viaggio intimo e poetico, ma al tempo stesso ironico e perturbante. So, my deepest gratitude goes to all the strangers I've ever filmed, who step with me into this experiment that I call life. Serve una distanza critica per capire la realtà, per capire l'individualità, per capire questi stranieri, questi sconosciuti, oppure bisogna precipitare nella narrazione. So, it was very important that I would step into the frame with them. And, like, I don't want to... I'm not so interested in making portraits, I'm interested in making encounters. So, I'm interested in making questions about the future. So, what do I want in the future? So, what do I want in the future? So, what do I want in the future? How do I imagine? My God, make sure that in my life there will still happen something else. I want to ask you if I want to know what's possible. So, thank you so much. So, as long as 2012, just after the opening of the last two roles, Saint-Laureu was killed, it became a symbol of the definitive death toll. Il gesto che dalla gente comune e sobria viene considerato pazzo coinvolge il mistero di una inaudita sofferenza. I pazzi avevano un nome, un cuore, un senso dell'amore.